Prime giornate di eventi in mare per la barcolana 54, da una parte i giovani talenti della vela classe optimist che si sono sfidati nella barcolana young, dall'altra gli atleti della barcolana nuota. La settimana della vela è stata inaugurata con le prime gare, le prime sfide in un clima di festa e partecipazione che vede triestini e turisti assieme per godersi i sette giorni di ottobre all'insegna dello sport ma anche di tutti gli altri eventi correlati. Sono stati 250 i ragazzi giunti da tutta Italia nonché dalla vicina Slovenia che hanno aperto ufficialmente gli eventi agonistici della 54esima edizione della barcolana, la regata più grande al mondo. La young che vede protagonisti gli atleti della classe optimist ha aperto le danze di questa edizione nella giornata di ieri. Oggi invece è stata la volta della barcolana nuota con partenza alle ore 12. Nuotatori di fondo amatoriali e professionisti di tutte le età si sono sfidati in una gara unica a pochi passi da terra. Un chilometro tutto da nuotare in centro città lungo le rive di Trieste. L'evento quest'anno ha previsto un nuovo percorso con partenza e arrivo al molo quarto e giro di boa davanti alla scala reale. La barcolana nuota è stata organizzata in collaborazione con l'Unione Sportiva Triestina Nuoto e ha contato la partecipazione di 226 iscritti.